Ecco, siamo molto contenti del risultato raggiunto, ringraziamo i cittadini per la fiducia che ci hanno riservato in una proporzione anche che non ci aspettavamo. Questo ci riempie di gioia, ma ci riempie anche di responsabilità. Dovremmo dimostrare di essere all'altezza del compito che ci siamo prefissati. Quindi io ringrazio anche tutta la proiezione che ha lavorato con un grande impegno, tutte le persone che ormai da 5 mesi hanno seguito la mia figura, mi hanno votato per portare questa amministrazione a me, per me lo so. Vi ringrazio tutti e vi ringrazio soprattutto, devo dire, ripeto, i cittadini per la fiducia. Allora, da domani inizieremo a lavorare, dovremo ragionare sulla giunta e poi inizieremo i lavori senza perdere di più.